Brave and Beautiful, trama puntate, mercoledì 18 agosto 2021. Bano riferisce a Gesur che Rifat è stato fermato dalla polizia con un'accusa molto banale. La giovane si dice insospettita e non capisce perché questo controllo così approfondito sia stato svolto proprio sul loro fidato alleato. Gesur intuisce che tutto questo ha a che fare con la sparizione di Swan e così ha finalmente la giusta intuizione per ritrovarla. Con l'aiuto di Kemal i due organizzano un vero e proprio attacco per introdursi nel garage e ritrovare la ragazza. Anche se con tante difficoltà, Gesur riesce ad entrare nel garage del suo caro amico e trova, come si aspettava, Swan. Subito Alem Dallogru gli comunica che è stato Tassin a organizzare il suo sequestro, allo scopo di far ricadere la colpa su di lui. Gesur, per darle un'ulteriore prova, porta Swan sul retro del locale. Lì vicino la sua famiglia sta parlando. Senza essere vista Swan, ascolta un dialogo tra Tassin, Violent e Koran. I primi due stanno confessando a suo fratello che hanno fatto sequestrare la giovane Korudag, allo scopo di far finire nuovamente in prigione Gesur, stavolta con l'accusa di rapimento e per far perdere completamente la fiducia della ragazza. Swan va su tutte le furie e prende di nuovo consapevolezza del vero carattere del padre. ... ... ... Grazie a tutti.